dietro lui buono buono ora l'ha lasciata dietro quello direi che se abbiamo avuto in piedi guarda essendo classificato la categoria tag quindi il secondo di classe di Carlo Aprile abbiamo la prende via è normale che c'è la pasta abbiamo lasciato in pace a forza non è facile ma non è facile ma non è facile ma non è facile ma aspetta vuoi andare un altro va dai va dai passato Grazie per la visione 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 Grazie per la visione